Che fine ha fatto l'attivazione della risonanza magnetica all'ospedale Barone Romeo di Patti? Sono trascorse poche ore dalla nomina di Carmelina Lipari a presidente del comitato a rete di Patti che subito è partita all'attacco su un problema che rischia alla lunga di diventare un tormentone. Potrebbe essere l'ennesima vicenda per una sanità che continua ad allungare i tempi di attivazione di un impianto strategico come la risonanza magnetica. Da qui l'ennesima estanza al direttore generale dell'ASP di Messina Bernardo Alagna, al direttore sanitario dell'ospedale Barone Romeo Franco Catalfamo e al sindaco di Patti Mauro Aquino. Il neopresidente ha evidenziato come già dall'ottobre 2020 con il fondatore ed ex presidente del comitato Francesco Saporito si è iniziata la campagna per la difesa dell'ospedale di Patti avendo all'attivo la presenza di circa 4.070 componenti. E ora l'affondo. Perché non è stata attivata la risonanza magnetica che è disponibile in ospedale già dal 2018 rimasta inutilizzata? E poi ci sono altre questioni da evidenziare. Perché non c'è la reperibilità ortopedica dopo le ore 20 e dei giorni festivi? E cosa si può fare per ovviare a questa criticità che potrebbe configurare interruzioni di pubblico servizio? Allo stesso modo della mancata riapertura dello stesso reparto così come imposto dalla legge. Ad oggi nessuna risposta al comitato Arete e ai cittadini di Patti. E c'è altro. L'imbarazzante situazione dei ritardi nelle prenotazioni degli esami diagnostici le cui liste d'attesa superano spesso l'anno, soprattutto nei casi in cui anche il ritardo di qualche settimana può rivelarsi fatale per il paziente. Infine l'ultima stoccata. Dovremmo rivolgersi alla magistratura ordinaria e contabile per cercare verità e giustizia?